buongiorno a tutti ragazzi benvenuti e bentornati sul nostro canale allora oggi per me è domenica e io sto facendo due cose intanto mettiamo l'asciugamano di james dentro lo zaino così domani mattina ce l'ha pronto allora stamattina james e sergio sono andati ad asti perché james al primo torneo di calcio e quindi sono andati e giudia siamo a casa giulia è di là che sta giocando con le costruzioni piccole e io devo fare i letti andrò a mettere vado a mettere i copriletti perché è arrivato il freddo e quindi metterò anche i bambini copriletti da me l'ho già messo qualche giorno fa stamattina lo metto anche a loro vado a rimetterli il copriletto leggero e via ci sono circa 15 gradi quindi direi che ho uno e poi devo iniziare a togliere pantaloncini e cantiere che ormai non servono più e quindi e mettere fuori della roba un po più spessa diciamo allora da james qua devo solo togliere i pantaloncini e cantiere che poi le maglie a maniche lunghe di cotone e i pantaloni lunghi di cotone li ha già dentro l'armadio io loro non vado a togliere tutte le cose perché avendo ognuno il proprio armadio diciamo hanno tanto spazio che non vado a togliere i pantaloni lunghi di cotone e i pantaloni lunghi di cotone li ha già dentro l'armadio e quindi va bene così nel senso che non vado a togliere le cose dall'armadio per metterle via ma semplicemente divido le parti ovviamente devo anche far passare tutte le maglie maniche lunghe di cotone per vedere se ce n'è qualcuna da togliere qualcuno da passare per casa qualcuna che invece ormai è piccola e quindi la vado a passare insomma nell'armadio di giulia invece devo fare un lavoro un po' più lungo devo tirare fuori tutto i vestiti blu che l'anno scorso usava all'asilo quest'anno non li può usare quindi ho pensato di fare così siccome ne abbiamo abbastanza e sono praticamente nuovi tanti alcuni hanno addirittura ancora il cartellino per caso lo lasciamo perdere ieri passo per casa visto che i vestiti per casa di giulia sono tutti un po' ruinati, macchiati eccetera vado a buttare via quelli e gli metto quei cambi blu che praticamente l'anno scorso se li ha usati li ha usati pochissimo e alcuni non li abbiamo usati neanche proprio per niente quindi li li metto in casa e via almeno li sfrutta che per passarli nuovi e poi far adoperare lei della roba diciamo bruttina per stare in casa mi spiace visto che la roba la hanno la sfruttano e via poi ovviamente ci sono delle cose che sono diventate piccoline e allora invece quelle le andiamo a passare ok non vado a fare grandi pulizie perché oggi è domenica però insomma una sistemata vado a mettere il copriletto e poi inizio appunto a sistemare un po' l'armadio inizierò con quello di giulia che è quello più incasinato diciamo così e intanto almeno sono di là con lei visto che appunto siamo io e lei a casa inizio dal suo e è nostra allora anche a giulia ho messo il copriletto leggero adesso vado a fare un attimo anche il mio letto così poi vado avanti a fare quello che devo il mio letto è fatto adesso vado giù a prendermi il caffè e poi inizio appunto come vi dicevo prima dall'armadio di giulia a fare qualcosa ora oggi è il 15 di settembre è una bella una bellissima giornata l'unica cosa è che qui il 15 di settembre aprono la caccia e quindi si sente sparare si sente casino eccetera quindi questo mi disturba un po' però non possiamo fare nulla è così tutti gli anni al 15 di settembre si aprono le danze diciamo così e quindi vabbè vado avanti a fare il mio non ci penso allora prima avevo attaccato una lavatrice di roba bianca una lavatrice un po' di roba bianca poca roba bianca che avevo da lavare e la lavatrice è finita e quindi me la porto su tanto che vedete sono proprio pochi pezzi bianchi chiudiamo così non c'entra merlino nella porto su e me la vado a stendere così intanto si asciuga allora vediamo questa roba qua che asciutta e andiamo a stendere quella ci sono tanti cambi poi già rossi cioè tanti i tre cambi rossi che ad operato giulia poi sono da stirare adesso ho un mucchio di roba da stirare ma inizieremo a stirarla poi insieme nel senso magari inizieremo a fare qualche live diciamo iniziando dalla settimana prossima del 23 perché prima i bambini non hanno ancora la mensa e quindi a mezzogiorno nel 1 meno un quarto arrivano a casa poi invece martedì e il giovedì anche james farà il pomeriggio e quindi magari uno di quei due giorni lì possiamo fare la live quindi un giù qua il giorno è lì per l'imparmio 05 05 05 05 05 05 05 06 05 05 05 05 05 05 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti